Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa 38esima puntata del podcast di Marcosbox Lo dico ogni volta, sarà una puntata breve, ma questa volta è veramente una puntata breve Sarà veramente una puntata breve perché questa settimana non ho avuto molto tempo a dedicare al blog Poi non ci sono state molte notizie interessanti, quindi è stato un po' fret E ci sono stati pochi annunci, però annunci di sostanza Iniziamo parlando del rilascio di KDE Plasma 5.17 Che è stato rilasciato qualche giorno fa, precisamente il 15 d'ottobre E che è già disponibile sulle principali distribuzioni che fanno utilizzo di KDE in via ufficiale Ma è anche in via ufficiosa, mi spiego meglio È già disponibile per KDE Neon, perché sapete bene che è la distribuzione di riferimento per KDE Quindi gli aggiornamenti arrivano a pochi giorni, in questo caso anche a tempo zero Da rilascio della nuova versione di KDE Plasma Ed è disponibile anche per Arc Linux e per OpenSUSE tramite i repository Quello dedicato agli aggiornamenti di KDE che è disponibile per OpenSUSE Grip Su OpenSUSE ThumbraGrid sta arrivando, o se non ricordo male è già arrivato ieri Quindi la versione rolling di OpenSUSE Tante le novità sostanziali di questa nuova versione Che vede per esempio l'aggiunta del Night Color La funzionalità che cambia la temperatura del colore del display Per far rilassare i nostri occhi quando tramonto il sole Che adesso è arrivato su X11 Una funzionalità interessante per chi per esempio fa molte presentazioni E quella che KDE Plasma adesso riconosce quando stiamo eseguendo una presentazione E blocca le notifiche pop-up Quindi non ci sono più notifiche e ci vanno a dar fastidio Per quanto riguarda Wayland Adesso Plasma dispone della funzionalità di ridimensionamento frazionato Che ci consente di adattare perfettamente le dimensioni di tutti gli elementi del desktop Finestre, carate, i pannelli sui monitor HDPI Miglioramenti anche delle prestazioni Che come da buona tradizione KDE negli ultimi tempi Di release in release c'è un boost prestazionale Che adesso Plasma è in grado di caricarsi ancora più velocemente che in passato Ovviamente non aspettatevi miracoli perché siamo nell'ordine di poco Però comunque sono prestazioni apprezzabili Specie per chi ha uno hardware un po' datato E c'è poi la possibilità di scegliere l'ordine delle immagini Quando impostiamo uno slideshow come sfondo Queste sono le principali che ho postato sull'articolo sul blog Ma andatevi a leggere il change log complete dove ci sono tutte e quante le varie novità È stato anche fatto un breve video da parte del team di KDE Dove viene mostrato visivamente quali sono queste novità principali E' stato anche migliorato il supporto ai temi dell'applicazione GTK Che fanno uso delle client side decoration Una su tutte ad esempio Simple Scan che adesso si vede meglio Non è stato ancora risolto il problema riguardante l'integrazione di Firefox Che succede? Succede che se su Firefox andate a attivare l'opzione per nascondere la barra del titolo Le schede in secondo piano risultano illegibili perché i caratteri sono scuro su scuro Quindi scuro su un nero Quindi non riuscite a vedere bene Questo accade con il tema Breeze di default Ho visto, ho anche segnalato il problema Poi mi sono accorto Anzi mi hanno fatto notare sul sistema di segnalazioni di bug di KDE Che era stato già segnalato per i precedenti release questo bug E che stanno lavorando per un walk around Cioè per metterci una pezza per via traverse Speriamo che quanto prima riescano a correggere questo problema Anche perché poi ho visto che hanno fatto un ottimo lavoro Perché è migliorato anche l'integrazione del tema di Breeze Per quanto riguarda Google Chrome Che adesso si vede meglio Quando noi andiamo anche in questo caso a nascondere la barra del titolo Comunque complimenti sempre al team di KDE Che fa sempre belle cose Ho postato poi un video Dove vi faccio vedere una preview Del nuovo launcher Che vedremo su D-Pin 20 D-Pin, sapete bene Il team Linux di D-Pin Linux Il team Linux di D-Pin Linux Non si può sentire Il team di D-Pin Linux Fa, strizza sempre l'occhio con il suo launcher Ma anche con l'impostazione del pannello e quant'altro Adatti ambienti Dex Per questo caso sembra Sembra di vedere un po' Chrome OS Per come è stato impostato Le animazioni sono sempre fighe L'interazione è sempre figa D-Pin, D-Pin desktop environment È un desktop environment interessante, moderno Molto attento al design Vedremo poi come sarà la versione finale della distro Sapete bene le solite polemiche che ci sono Ogni qualvolta si parla di D-Pin Linux Per quanto riguarda la privacy Smentite poi tra l'altro Ma non mi dilungo troppo al riguardo Canonical ha poi annunciato Per via traversi Perché non ha fatto un annuncio Non c'è più il classico annuncio Che Mark Shatterworth Il padrone di Ubuntu e di Canonical Faceva in passato In passato faceva sempre l'annuncio Del nome in codice Della prossima release Sul suo blog ufficiale Ultimamente non lo fa più da qualche release Non lo fa più Segno che manco lui se ne frega più Poi tanto Perché a mio avviso è questo Il vero motivo Vabbè Fatto sta che comunque è arrivato Per via traversi Il nome di Ubuntu 20.04 LTS Che è la prossima versione Che sarà appunto Una LTS di Ubuntu Si chiamerà Ubuntu Focal Fossa Fossa Che sembra Sembra una parola Che non c'entra niente Con un animale Ma è un animale In quanto è una specie di Praticamente Sembra un po' Ma una mezza In via di mezza Una cosa del genere Vabbè È un felino comunque È un felino Un mammifero carnivoro Della famiglia Degli Eupreridi Endemici Del Madagascar Quindi andatevi A vedere Su Wikipedia Maggiore informazioni Su questo tipo Di animale Che sarà il prossimo Totem Il prossimo La prossima Mascotte di Ubuntu È stata pubblicata Poi già La roadmap Di rilascio Il rilascio Della versione finale Di Ubuntu 20.04 Avverrà Il 23 Aprile Del 2020 Quindi Ci aspetta Una lunga cavalcata E Cavalcata che è già iniziata Contemporaneamente In queste ore Mentre vi sto parlando È stata rilasciata Ubuntu 19.10 La nuova Release semestrale Di Ubuntu Tante le novità Che vedono Principalmente L'arrivo di Gnome 3.34 Con tutti i benefici In termini di prestazioni Che questa nuova release Porta con sé Una nuova versione Del tema Yahoo Che adesso è basato Sul tema Adua Ita Che è stata fatta Inizialmente Era stata fatta Soltando la versione Light Durante la beta Poi è stato Ripristinato Il vecchio tema Quello Chiaro-scuro Diciamo così Con leather bar Scura E il resto chiaro Il tema Comunque Il tema Completamente Light Quello Completamente Chiaro E comunque Presente All'interno Dei repository Cioè Meglio Dell'installazione Di Ubuntu E quindi Con Gnome Tweak Possiamo Scegliere Di attivarlo Così come Possiamo Scegliere Di attivare Il tema Il tema Il tema Yaro Quello Dark Per quando Riguarda Le altre Versioni Abbiamo Ubuntu Mate Che porta Finalmente Mate 1.22 Con Alcune Sostituzioni Che sono state Fatte Ai software Di base Una su tutte Ad esempio Che è stato Sostituito VLC E al suo posto Abbiamo Gnome MPV Ubuntu 19.10 Porta Con 6 XFSE 4.14 Ubuntu Di solito Aggiornamento Di plasma Non l'ultima Versione Ma comunque Possiamo Aggiornare Tramite Repository Ubuntu Pagi Qualche ritocco Quali Perché non Ci sono state Nuove Versioni Stessa cosa Per Ubuntu Ubuntu Kirin Ubuntu Studio Quindi Per queste Per queste Derivate Ufficiali Favors Come li volete Chiamare Di Ubuntu Non ci sono Grossi Nevitari Novità Principali Risiedono Tutte Sulle Edizioni Principali Di Ubuntu Su Ubuntu Mate E su Xubuntu Bene Con questo Concluso Ci ascoltiamo La prossima Settimana Con la prossima Puntata Di Podcast Di Marcos Box Lunga vita Prosperità A tutti Quanti Ciao